Benvenuti su ClaudioMasci.com In questo video andremo a vedere come rimuovere dei file inutili dai nostri smartphone Android e come andare a liberare spazio che in base al numero di app presenti può arrivare anche a diversi giga Iniziamo col dire che questi passaggi in base al tipo di smartphone, quindi alla marca, al modello che avete possono avere delle voci diverse Il funzionamento, quindi la procedura è la stessa, dovrete semplicemente trovare la voce nel vostro caso, quindi per il vostro modello La prima cosa da fare è andare nelle impostazioni, scorrere l'elenco delle impostazioni fino a trovare applicazioni Potreste trovare la voce applicazioni, app, applicazioni predefinite, gestione applicazioni, quindi in base al modello sarà diversa la voce Toccando questa voce troverete l'elenco di tutte le app presenti sul vostro smartphone Da qui possiamo trovare il nome dell'app e quanto spazio occupa quest'app sullo smartphone Vi consiglio di andare a vedere quelle che occupano più spazio, potete farlo andando a riordinare l'elenco delle app Toccando il tasto presente in alto e ordinando invece che per nome e per dimensioni Ancora una volta in base al tipo di smartphone potrebbe essere dimensioni, ordina ad esempio dal più grande al più piccolo Potreste avere diverse voci Comunque quindi ordinatele in base all'app che occupa più spazio In questo modo avrete inizialmente subito le app che vanno ad occupare di più Generalmente le app che occupano di più sono quelle che utilizzate maggiormente Specialmente quelle dei social, quindi se avete TikTok, se avete Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram Generalmente sono queste quelle che con il tempo vanno ad occupare più spazio Quindi andiamo a selezionare un'app, nel mio caso andrò a selezionare YouTube E avremo tutte le informazioni relative a quest'app Scorriamo in basso fino a trovare memoria di archiviazione Ancora una volta potrebbe essere diversa la voce sul vostro smartphone Comunque andiamo a selezionare memoria archiviazione E qui possiamo vedere tutti gli elementi di quest'app quanto spazio occupano sul nostro smartphone La prima voce è applicazione che è proprio l'applicazione di base Quindi quanto occupa l'app appena installata In questo caso YouTube occupa 204 MB Poi abbiamo la voce dati che comprende tutte le informazioni di base relative all'app Quindi il nostro account utente I file di configurazione che permettono all'app di funzionare correttamente sul nostro telefono E poi abbiamo la voce cache che è praticamente quella che andremo ad eliminare Quindi la voce che contiene tutti i file che vengono creati, generati dall'app Ma che fondamentalmente non sono necessari per il suo utilizzo Quello che andremo a fare semplicemente è toccare la voce suota cache in basso E avremo quindi eliminato tutta la cache dell'app di YouTube E abbiamo ridotto le dimensioni di quest'app Possiamo fare tranquillamente questa operazione per tutte le app che abbiamo sul nostro smartphone Perché come detto è un'operazione che non va in nessun modo ad influenzare il funzionamento dell'app Semplicemente tutte queste app vanno a generare dei file Che in teoria servirebbero per velocizzarne l'apertura e il funzionamento Ma in generale sono file che una volta creati vengono lasciati lì Quindi non vengono poi eliminati quando non servono più E con il tempo si vanno ad accumulare Quindi si possono andare a rimuovere tranquillamente Invece vi sconsiglio ovviamente di toccare la voce cancella dati Perché in questo modo andreste a rimuovere il vostro account di utilizzo di quell'app E dovreste riconfigurarla dall'inizio Quindi cancella dati non lo fate Oppure se volete reimpostare l'app Magari se l'app non funziona E volete reimpostarla invece di disinstallarla e reinstallarla Potete toccare la voce cancella dati E quindi è come se l'aveste appena reinstallata Un'ultima cosa Sullo store sono presenti diverse app Che in teoria fanno questa pulizia in automatico Ma vi sconsiglio di utilizzarle Perché oltre a fare questa pulizia Potrebbero rimuovere dei file invece necessari, importanti O comunque vanno ad appesantire il vostro smartphone Quindi rimangono aperte in background Vanno a ridurre la durata della batteria Quindi vi si scaricherà prima Vi durerà meno durante la giornata Vanno ad occupare memoria Quindi per un'operazione che potete tranquillamente fare manualmente E richiede davvero pochissimo tempo Vi sconsiglio di installare un'app apposita Questo è tutto Se il video ti è piaciuto Metti like In questo modo mi aiuti a capire Quali sono i video che vi interessano maggiormente Inoltre se non l'hai ancora fatto Iscriviti al canale e attiva la campanella Così non perderai tutti i miei prossimi video Ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine E per qualsiasi dubbio, domanda o suggerimento Puoi scrivermi nei commenti E ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti.